Lotta contro il razzismo, sfide residue e prospettive per un'Italia inclusiva Nonostante i notevoli progressi verso l'uguaglianza e l'inclusione, il razzismo continua a essere una triste realtà in molti paesi, incluso l'Italia. Nonostante i cambiamenti sociali e le leggi contro la discriminazione, alcune persone continuano a essere vittime di pregiudizi e discriminazioni a causa del loro colore della pelle, origine etnica o nazionale. In questo articolo, esploreremo alcune delle possibili ragioni del persistente razzismo in Italia nel 2023, le sfide che ne derivano e le prospettive per un'Italia più inclusiva e tollerante. Radici storiche del razzismo Il razzismo ha radici profonde nella storia umana e, purtroppo, l'Italia non fa eccezione. Durante il periodo coloniale, l'Italia aveva un impero coloniale in Africa e in altre regioni, e le relazioni con le popolazioni locali non furono sempre segnate da rispetto e uguaglianza. Anche se da allora sono trascorsi molti anni, le conseguenze di quel passato possono ancora risuonare nella società odierna. Xenofobia e paura dell'altro Il razzismo spesso si nutre della paura dell'ignoto e dell'altro. Le persone tendono a sviluppare stereotipi negativi riguardo a gruppi etnici o nazionali diversi dai propri, senza averne effettivamente esperienza diretta. La mancanza di conoscenza e interazione con persone di diverse origini può portare alla diffusione di pregiudizi e alla perpetuazione del razzismo. Crisi migratorie e disagio sociale Le crisi migratorie degli ultimi anni hanno alimentato ulteriori tensioni riguardo all'immigrazione e all'integrazione. L'afflusso di migranti e rifugiati ha creato timori riguardo alla concorrenza per le risorse e l'occupazione, causando in alcuni casi sentimenti di antagonismo nei confronti delle comunità straniere. Stereotipi nei media e nella cultura popolare I media e la cultura popolare possono giocare un ruolo significativo nel plasmare le percezioni delle persone. Quando i membri di gruppi etnici o nazionali sono raffigurati in modi stereotipati e negativi nei media, ciò può contribuire alla formazione di atteggiamenti discriminatori. Mancanza di educazione e sensibilizzazione La mancanza di educazione e sensibilizzazione riguardo al razzismo e alle questioni legate all'uguaglianza può contribuire alla sua persistenza. L'inclusione di programmi educativi sul tema del razzismo nelle scuole e nelle comunità può aiutare a promuovere la consapevolezza e la comprensione. Prospettive per un'Italia inclusiva Nonostante le sfide, ci sono anche segnali positivi di cambiamento in Italia. La società civile, le organizzazioni non governative e i cittadini stessi stanno diventando sempre più consapevoli dell'importanza dell'inclusione e del rispetto per la diversità. Alcune azioni che potrebbero essere intraprese per promuovere un'Italia più inclusiva includono 1. Leggi antidiscriminazione rafforzate Implementare e rafforzare leggi e normative che puniscano il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme. 2. Promuovere l'integrazione sociale Favorire l'inclusione sociale e culturale delle comunità straniere, incoraggiando lo scambio e l'interazione tra cittadini italiani e immigrati. 3. Educazione sulla diversità Introdurre programmi educativi nelle scuole che promuovano la comprensione, l'empatia e il rispetto per la diversità culturale. 4. Coinvolgimento dei media Sensibilizzare i media riguardo alla responsabilità di rappresentare le diverse comunità in modo accurato ed equilibrato. 5. Leadership politica Le figure politiche possono svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere un linguaggio di inclusione e tolleranza e sostenere politiche per la parità di diritti e opportunità. Conclusione Affrontare il razzismo è una sfida complessa e persistente che richiede un impegno a lungo termine da parte di tutta la società. L'Italia, come molti altri paesi, deve continuare a lavorare verso una cultura di rispetto, uguaglianza e inclusione. Promuovendo l'educazione, sostenendo leggi antidiscriminazione e incoraggiando l'interazione tra diverse comunità, l'Italia può fare progressi significativi verso una società più aperta e tollerante. Solo abbracciando la diversità e rifiutando il razzismo, l'Italia potrà costruire un futuro migliore per tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalla loro origine etnica o nazionale.